I militari della Guardia di Finanza del gruppo di Olbia hanno arrestato una donna di 42 anni nigeriana trovata in possesso di un ingente quantitativo di cocaina. La donna, che risiede in un centro di accoglienza nel comune di Selarjus, è stata fermata nel porto Isola Bianca di Olbia, dove era sbarcata dalla motonave proveniente da Civitavecchia. A richiamare l'attenzione dei militari sono stati i cani antidroga Zato e Eter, due pastori tedeschi adestrati alla ricerca di droga. La donna, sottoposta a una curata ispezione personale, è stata trovata in possesso di due ovuli celati nelle parti intime, il più pesante dei quali superava i 190 grammi. Gli stessi, una volta espulsi e analizzati a mezzo a un narcotest, sono risultati essere effettivamente ovuli di sostanza stupefacente, certissima qualità, che una volta tagliata, suddivisa in dosi e immessa nel mercato cagliaritano, cui verosimilmente sembrava destinata, avrebbe potuto fruttare non meno di 100.000 euro. Per la nigeriana sono dunque scatate le manette e disposto il trasferimento nel carcere femminile di Sassi, a disposizione del magistrato.